Voglio dire, con l'avvento dell'euro noi ci troveremo di fronte a una situazione analoga a quella dell'emissione della lira, perché la lira è stata emessa prestando, così come l'euro sarà emesso prestando, però con l'euro c'è una differenza, perché prima, quando è nata la lira, c'era il deposito dell'oro in banca, allora siccome c'era la riserva d'oro, la banca poteva dire, siccome la riserva è mia, la moneta è mia, quindi quando io emetto la moneta te la posso prestare, perché il presupposto del prestito è la proprietà, quindi questo era possibile in un certo senso con una certa giustificazione. Che cosa avviene con l'euro? Ormai la riserva non c'è più, dal 15 agosto del 71 la riserva è stata abolita, quindi noi abbiamo la prova con l'avvento dell'euro che questa moneta è una moneta convenzionale, e allora è come se fosse un francobollo d'antiquariato, il francobollo d'antiquariato ha valore perché gli operatori del mercato dei francobolli per convenzione stabiliscono che abbia questo valore, quindi è la convenzione che crea il valore dell'euro, così come la convenzione che crea il valore del francobollo. Questo distingue nettamente la nascita dell'euro dalla nascita della lira, o di altre monete, perché su quelle in un certo senso c'era la giustificazione della riserva, tant'è vero che noi leggiamo lire 100.000 o lire 1000 pagabili a vista al portatore, pagabili a vista vuol dire che quella è una specie di titolo di credito rappresentativo della riserva. E' chiaro che questa prima ipotesi era anch'essa un'ipotesi sbagliata, perché la moneta non può essere ad un tempo credito e oggetto del credito, come invece appare, perché quando io leggo lire 100.000 pagabili a vista al portatore vuol dire che quel pezzo di carta è una cambiale, se io la presento mi devi dare 100.000 lire d'oro, e siccome non me le dai, quel pezzo di carta diventa come l'oro e si parla di oro carta, perché si spaccia sotto la parvenza di valore creditizio il valore monetario, che è il valore indotto. Con Zimec ormai questi si vergognano di dire quello che dovrebbero dire, per cui sull'euro non c'è scritto nulla, c'è scritto il numero, la parola euro e banca centrale europea in varie lingue con la firma del governatore Duisenberg, basta. Quindi loro che cosa hanno detto? Un numero e una firma. Siamo noi che diciamo è moneta, ma se è moneta e lo diciamo noi vuol dire che ha valore convenzionale, allora la moneta va a dire proprietà dei popoli e non delle banche centrali.